Domani le telecamere di Teleclub Italia Canale 98 giungeranno a Grumo Nevano nella parrocchia della Madonna del Buon Consiglio per la celebrazione in diretta televisiva ufficiata dal Vescovo Angelo Spinillo. La tradizione della nostra parrocchia prevede i festeggiamenti esterni in onore della Madonna nella seconda domenica di maggio. Quest'anno a prescindere dai tempi ci sarà impossibile festeggiare perché i festeggiamenti esterni raccolgono una grande quantità di persone e noi questo non lo possiamo permettere. La Santa Messa in onore della Madonna del Buon Consiglio verrà celebrata a porte chiuse alla sola presenza delle autorità civili e militari. L'unico modo che abbiamo quest'anno per celebrare la nostra protettrice è l'Eucaristia, la messa solenne in suo onore presieduta dal nostro Vescovo Monsignor Angelo Spinillo e abbiamo deciso di farla non nella seconda domenica di maggio ma il 26 aprile per due ragioni. La prima è la memoria liturgica della Madonna del Buon Consiglio, quindi è proprio la festa liturgica della Madonna. E perché il 26 aprile ricorre anche il secondo anno di consacrazione di questa parrocchia. Noi abbiamo consacrato la parrocchia due anni fa nel giorno 26 aprile e quindi era bello insomma ricordare questa data perché è la data della comunità. La parrocchia esiste perché esiste una comunità. Don Raffaele Pagano, parroco della comunità, lancia poi un messaggio a tutti i cittadini. Posso dire soltanto di non avere paura. Continuiamo ad affidarci a Dio, preghiamo la Madonna, siamo uniti nella preghiera e nella solidarietà. Appuntamento domani in diretta su Teleclub Italia dalle ore 12 con la recita del Santo Rosario e la supplica alla Madonna che precederà la celebrazione.